Parliamo di occhio secco provocato da una disfunzione delle ghiandole del meibomio. Al dius 2 del 2017 si è evidenziato come la disfunzione delle ghiandole del meibomio sia considerata la causa principale della sindrome d'occhio secco nella popolazione. Si è sempre discusso come la lacrima si è suddivise in tre strati, tra cui lo strato lipidico, descritto come la parte più esterna della lacrima, questo per prevenirne principalmente l'evaporazione e la fuoriuscita dal sacco congiuntivale. In realtà si è dimostrato come la lacrima sia una sospensione dove le varie componenti sono tutte miscelate tra loro. Vi sono varie cause che procurano l'instabilità del film lacrimale, sono principalmente dovute ad un difetto della parte lipidica o acquosa o mucinica della lacrima. Qui sono descritti alcuni segni patognomonici del deficit lacrimale, ma ve ne sono anche molti altri. In questo schema possiamo vedere come vi siano cause differenti che si mescolano tra di loro per instaurare un circolo vizioso da cui si evidenzia come il dry sia una patologia multifattoriale e proprio per questo necessiti di terapie personalizzate. Anche i sintomi si mesclano e si differenziano tra loro e questo ha fatto dedurre come la maggior parte dei dry ice è di tipo misto, evaporativo, tipo secretivo e quindi non ci può essere un'unica terapia che vada bene per tutti. Torniamo ora alle ghiandole del meibomio. Se noi eseguiamo una pressione su di esse vediamo fuori uscire un fluido chiaro. Questo però diventa torbido, sia normale e appare biancastro, giallastro quando è solido con un innalzamento del punto di fusione. Dal punto di vista diagnostico è molto importante eseguire uno squeezing delle ghiandole del meibomio per valutare se da queste esce olio o sebo denso. In questo caso la produzione è normale. Invece in un caso come questo le ghiandole del meibomio sono struite e quindi vi sarà un tempo di evaporazione molto basso. Vedete che schiacciando esce proprio qualcosa di denso. Il meibomio è composto da varie componenti. Quello che si è notato è che quando solidifica c'è un valore della ceramide che è molto più alto del normale. Nei pazienti con pleferite croniche osserviamo spesso un'erosione puntata epiteliale superficiale, che specialmente nelle meibomiti, sembra essere secondaria ad una normalità della parte lipidica della lacrima. La classificazione di Meccali e collaboratori della pleferite cronica spiega come possa essere dovuta a cause differenti. Stafilococcica, seborroica con vari stadi oppure meibomite primario o meibomion glandis function. La meibomion seborrea si presenta con una eccessiva secrezione del meibomio, ghiandole dilatate, schiuma nella lacrima, bruciore ed è associata frequentemente alla cheratocongiuntivite secca. La meibomite primaria o da cheratocongiuntivite si presenta con anormalità intorno alle ghiandole, meibomio spessito, accumulo di secrezione nelle ghiandole che risultano infiammate, lieve modifiche del bordo palpebrale, congiuntivite, instabilità del film lacrimale, frequente associazione con cheratocongiuntivite secca, con dermatite seborroico, acne rosacea, ma soprattutto con teleangiectasia del bordo palpebrale. Vediamo la fisiopatologia, si è visto che solitamente non è responsabile un solo batterio, ma vi è un ruolo importante degli esenzimi lipolitici batterici. Vi sono infatti anomalie biochimiche del meibomio e vi è una produzione di citochine e chemochine. La disfunzione delle ghiandole del meibomio è una normalità cronica e diffusa delle ghiandole del meibomio, caratterizzata principalmente da un'ostruzione dei dotti e o da una modificazione qualitativa o quantitativa delle secrezioni ghiandolare. Questa è la definizione classica. Questo può comportare una malattia della superficie oculare con alterazione della lacrima e sintomi di irritazione oculare. È stato disegnato uno schema a cascata che mostra come la patogenesi della meibomio and gland dysfunction possa essere dovuta a varie cause che comunque portano tutte alla stessa sintomatologia. Anche uno studio epidemiologico condotto da Alcon che ha intervistato un gruppo di oculisti statunitensi ha evidenziato come la forma mista sia quella preponderante. I sintomi principali li conosciamo un po' tutti sono il bruciore, il prurito, la lacrimazione, la sensazione di corpo estraneo, difficoltà visive, difficoltà ad aprire gli occhi al risveglio con un segreto secco sulle ciglia ed occhi rossi. A mio parere però la terapia normalmente utilizzata per l'occhio secco serve solo per migliorare la sintomatologia ma non è curativa. L'igiene palpebrale, gli impacchi caldi, i massaggi e lacrime artificiali sono importanti però procurano solo un sollievo temporaneo. Nove anni fa è stata presentata una tecnologia chiamata LipiFlow. Consiste in un device che scalda e comprime e massaggia le ghiandole per disostruirle. È stato un primo passo della tecnologia per risolvere questa patologia però chiaramente non va alla base per curare. Andiamo a aiutare a disostruirle però poi si possono di nuovo ostruire e quindi bisogna rifare questi tratamenti che sono anche abbastanza costosi. È uscito un altro dispositivo simile, è un po' più pratico perché è portatile, deve uscire in Italia, si chiama Lilux e altri dispositivi scalda e spremi stanno uscendo sul mercato però comunque nessuno di questi cura la causa, allevia i sintomi per un certo periodo. Anche il probing. Probing è una tecnica che io utilizzo in tanti casi in cui le ghiandole sono proprio chiuse. È una tecnica presentata da maschi nel 2010 che disostruisce le ghiandole del meibomio però anche qua non cura quello che ha procurato questa ostruzione. Vediamo come si esegue. Si ha una siringa normalissima su cui si inserisce questa cannulina. Si con una pinzetta, questa è la pinza che avevo fatto fare io dalla siroftalmica per marcare la cute da disegnare per la blefano plastica e funziona molto bene anche in questo caso per schiacciare le ghiandole e soprattutto per far vedere dove è l'ingresso della ghianda perché non è facile. Quindi al microscopio piano piano si entra e si vanno a disostruire. Ultimamente masking è passato da un probing a un soft probing perché comunque bisogna fare un'anestesia, c'è un'infiammazione per un po' di giorni e quindi il paziente per primo mese addirittura peggiora un pochino la sintomatologia. Con un soft probing ha ridotto questi agenti infiammatori, questa infiammazione delle ghiandole. Se non si hanno queste cannoline apposite nel 2012 un collega del Cairo ha presentato un lavoro all'Eso PRS dove ha utilizzato un filo di ProLaning 6-0 e dice che ha ottenuto lo stesso risultato. Qua c'è un parere un po' controverso su questo. Molti inseriscono appunto un plug però se portati a lungo potrebbero essere addirittura dannosi in quanto i bloccano la continua pulizia effettuata dalle lacrime esitando un aumento dell'osmolarità che provoca quindi una maggiore infiammazione e poi il problema comunque rimane in quanto la qualità del filo lacrimale rimane alterata. Un'alternativa potrebbe essere questa proposta di utilizzare la tossina botulinica per rallentare la fuoriuscita della lacrima. Noi sappiamo che la parte lacrimale del muscolo orbicolare circonda i due canali lacrimali esterni superiore ed inferiore. Questa porzione di orbicolare detta anche muscolo di Horner esegue una funzione di pompa per agevolare il deflusso delle lacrime ed è proprio per non perdere questa funzione che si sconsiglia di eseguire la tecnica a tre tagli per allargare il punto quando è troppo stretto. Se noi iniettiamo quattro unità di tossina botulinica indeboliamo temporaneamente il muscolo che agevola il deflusso lacrimale con il risultato di mantenere temporaneamente l'occhio più bagnato. Solitamente l'effetto dura tre mesi e se le cure non hanno ancora risolto il dry eye la amministrazione di tossina si può ripetere. Chiaramente la tossina non va iniettata vicino alla ghiandola lacrimale per non indipendere la funzionalità quindi se noi andiamo proprio lì sul muscolo rimane lì. Bisogna saperlo fare chiaramente chi utilizza anche la tossina per motivi estetici sa il dosaggio giusto, come diluirla e come iniettarla. Se noi andiamo a iniettarla vicino alle ghiandole chiaramente conveniamo un disastro perché il botulino blocca poi i muscoli che aiutano le ghiandole a far fuori uscire la lacrima. La luce pulsata invece soprattutto chiudendo la telangiectasia è dimostrato in certi casi di poter guarire la meibomian gland dysfunction. Nel 2001 Rolando Toyos che parte come chirurgo fialmoplastico ha pubblicato un lavoro dove riportava casi di miglioramento del dry eye dopo trattamenti estetici del volto con la luce pulsata. La tecnologia luce pulsata consta di un accumulatore di energia connesso con una lampada all'oxeno che emette una serie di impulsi molto brevi di intensità variabile misurati in joule per centimetro quadrato. Dei filtri intercambiabili ne determinano la profondità di penetrazione della cute. Vi sono ormai molte pubblicazioni sull'efficacia della luce pulsata nella cura del dry eye quindi potete segnarvele e andarle a cercare ve ne sono tantissime. Quella che secondo me è stata quella che mi ha un po' spinto a continuare in questa cosa qua e mi ha tolto tanti dubbi c'è quella del 2017 dove delle collaboratori dimostrano come la luce pulsata chiudendo le telangiectasia presenti sul bordo palpebrale blocchi il rilascio di chemochine citochine che sono la causa principale dell'infiammazione delle ghiandole del meibomio. La luce pulsata è il trattamento di prima scelta nella rosacea anche e si è evidenziato come le cellule che si staccano dall'epidermine possono ostruire le ghiandole. Trattando la rosacea infatti si è dimostrato che queste istruzioni si riducevano e quindi anche in questo caso migliorava il dry eye da meibomio angland dysfunction. Questo lavoro viene spiegato perché non sia necessario agire direttamente sulle telangiectasia del bordo palpebrale ma come sia sufficiente agire sull'emoglobina afferente a questi vasi che cambia la sua struttura sotto l'effetto della luce pulsata e quindi li va a trombizzare. Il protocollo di Toyos consiglia 25 spots a seduta da trago a trago proprio per chiudere anche i vasellini che non sono visibili nel terzo medio del volto per avere un risultato più duraturo. Si è dimostrato inoltre come la luce pulsata possa eradicare il Demodex presente nei follicoli delle ciglia del 50% dei pazienti affetti da meibomio angland dysfunction. Per chi aveva ancora dubbi sull'efficacia della luce pulsata sul Demodex un collega californiano proprio a gennaio di quest'anno ha presentato un filmato dove dimostra come il Demodex venga eliminato dalla luce pulsata. Il lavoro è stato poi pubblicato sull'International Journal of Ophthalmology. Vedete che piano piano ci sono degli impulsi e questi vengono a far danneggiare questo parassita che è responsabile poi di tutte le infiammazioni che ci sono nelle nostre ghiandole. La luce pulsata comunque può essere sempre associata al T3 oil che è tuttora un trattamento molto efficace sul Demodex. Sono controindicati al trattamento i pazienti di colore perché la luce pulsata sappiamo che depigmenta viene usata in estetica per togliere le macchie anche sul viso o sulle mani. Se si hanno dei nevi bisogna coprirli con dischetti adesivi e poi bisogna fare attenzione ai pazienti con la barba perché chiaramente la luce pulsata depilando può creare dei piccoli buchi nella barba e quindi delle zone poi in cui la barba non cresce più. Io e Matteo abbiamo iniziato a utilizzare questa tecnologia in pazienti con dry nel gennaio 2016 e abbiamo presentato i risultati alla Sopanop di Cancun nell'aprile del 2017 dimostrandone l'efficacia. Abbiamo trattato in più di un anno 177 pazienti quindi 758 trattamenti e abbiamo visto un notevole miglioramento sia della sintomatologia ma anche di tutti gli esami clinici che abbiamo effettuato. Introduciamo ora la radiofrequenza. La radiofrequenza cos'è? È un segnale elettrico o un'onda elettromagnetica ad alta frequenza che si propaga nello spazio o in un cavo coassiale e che agisce all'interno dei tessuti. A volte è usato come un trattamento cosmetico per porre ingiovanire la pelle, ridurre il grasso, favorire la guarigione e la potenza è misurata in watts. Cos'è successo? Nel maggio 2017 Lisa Feulner alla SCRS ha presentato un lavoro dove riportava casi di miglioramento del dry eye dopo trattamenti estetici del volto con radiofrequenza, un po' come aveva fatto Toyos con la luce pulsata. In questo studio viene illustrato come le vie neuronali influenzino l'iposecrezione e come la radiofrequenza possa stimolarle a migliorare. La radiofrequenza va a stimolare il parassimpatico quindi potrebbe stimolare le fibre presenti sulle ghiandole del meibomio. Anche Pedrotti a Verona ha fatto uno studio e ha dimostrato l'effetto della radiofrequenza sul miglioramento del dry eye ed ha concluso che la stimolazione elettrica transcutanea con radiofrequenza ha dimostrato di migliorare il dry eye sia soggettivamente che oggettivamente senza effetti avversi. Sono andati anche strumenti di dubbio utilità come il true tear che è utilizzato molto negli Stati Uniti che stimolando meccanicamente il sistema parassimpatico sempre posso indurre la cremazione. Io l'ho provato mi dava molto fastidio a farlo entrare nel naso e a schiacciare però tanti americani dicono che si trovano bene e ce l'hanno a casa loro ogni tanto si vanno ad autostimolare. Per ora in Italia non ha avuto gran che successo. Comunque proprio per questo motivo visto che abbiamo sia la luce pulsata che la radiofrequenza che possono funzionare o che funzionano sia di stato dimostrato che funzionano per questa patologia. A fine maggio del 2017 ho avuto l'idea di provare a trattare i pazienti affetti da occhio secco con una tecnologia che utilizzasse ambedue le metodiche contemporaneamente e ho chiamato la tecnologia IPLRF. Da maggio a dicembre del 2017 con Matteo abbiamo testato 30 pazienti, abbiamo sottoposti sia a test clinici, all'OSDI, a questionari per vedere anche la sintomatologia e poi abbiamo utilizzato il protocollo che in quell'anno aveva messo a punto Rolando Toyos aggiungendo chiaramente la radiofrequenza. Quindi abbiamo solo aggiunto 10 vasti di radiofrequenza ai nostri impulsi di 15 joule per centimetro quadrato che è quello che usava. Adesso probabilmente poi nel tempo un po' tutti abbiamo cambiato e migliorato le nostre... con queste macchine che abbiamo molto versatili. Noi adesso possiamo alzare, abbassare, provare a mettere la radiofrequenza più alta, più bassa, la luce pulsata più alta, più bassa, però in quegli anni lì questo era il protocollo di Toyos e mi sono ottenuto quello e aggiunto 10 vasti di radiofrequenza. Abbiamo fatto, testato 30 pazienti, in totale 120 trattamenti, uno al mese per quattro mesi ogni paziente, un occhio l'abbiamo trattato solo con luce pulsata e l'occhio a delfo trattato con luce pulsata più radiofrequenza. Intensità 15 joule, lunghezza dell'impulso 5.000 secondi, filtro di 590 nanometri e potenza della radiofrequenza 10 watt. Abbiamo ripetuto gli esami clinici ogni mese per 5 mesi. Nei primi mesi la maggior parte dei pazienti ha riferito un maggior beneficio nell'occhio trattato con IPLRF rispetto all'altro. Dopo 5 mesi 8 pazienti riferivano ancora un maggior beneficio nell'occhio trattato con IPLRF e gli esami clinici erano migliori sull'occhio trattato con IPLRF in 11 pazienti rispetto all'altro. Da questo studio si è quindi evidenziato come il trattamento combinato IPLRF acceleri il tempo di guarigione dopo i primi trattamenti nella maggior parte dei pazienti. 27 su 30 dopo un mese dal primo trattamento. Dopo 5 mesi la maggiore efficacia del trattamento combinato rispetto al solo IPL è ridotta anche se circa un quarto dei pazienti 8 su 30 ha riportato un miglioramento maggiore con IPLRF e gli esami, in particolare il rossofenol, erano migliore in 11 pazienti su 30. Quindi la luce pulsata migliora la meibomian gland dysfunction e la radiofrequenza aumenta la secrezione lacrimale. IPLRF agisce su due componenti e riduce i tempi di guarigione. Come complicanze abbiamo avuto un caso di perdita di qualche ciglia forse per aver messo male la mascherina protettiva ed un'iperemia di breve durata in una paziente di carnagione chiara. Infatti adesso questo era il protocollo iniziale quando c'è la carnagione chiara teniamo un pochino più bassi certi valori e poi vediamo se alzarli in seguito a quello che otteniamo se non abbiamo neiperemia, se non abbiamo problemi anche alle ciglia. Dal 2019 è disponibile quindi la versione definitiva di questa tecnologia che è stata chiamata Dry Eye Dual System perché usa due sistemi radiofrequenza e luce pulsate ed attualmente è l'unico strumento che permette di utilizzare contemporaneamente queste due tecnologie. Il trattamento è molto semplice, dopo aver impostato i parametri mettiamo il gel che ci permette di far andare meglio il segnale sia della luce pulsata che dalla radiofrequenza distribuirlo meglio intorno all'occhio e poi piano piano facciamo 25 spot in totale, quindi anche uno sul naso proprio per il discorso di Toyos che diceva delle telangiectasie perché telangiectasie non sono solo sul bordo ma ce ne possono essere altre che non si vedono. Se poi c'è la rosacea addirittura andiamo a fare anche 30-35 spot perché con la rosacea dobbiamo andare ampliare molto, andare sulle guance, andare un po' su tutto il viso per avere dei buoni risultati perché sennò poi da lì ripartono i vasi e vanno di nuovo sulle palpebre. Alla fine se non abbiamo una pinza può bastare anche un cotton fioc per schiacciare, lo squeezing è importantissimo perché comunque noi andiamo a scaldare, abbiamo a diluire un pochino il maimung e poi schiacciamo e andiamo a far fuoriuscire a tutto quello che è rimasto dentro le ghiandole e le liberiamo. In associazione alle PLRF però la terapia antinfiammatoria della meibomian gland dysfunction riveste un ruolo essenziale. I cortisonici si danno e vanno dati in questi casi, dosati e personalizzati da paziente a paziente e soprattutto all'inizio della terapia, poi dopo si fanno dei washout, si vede, però quando abbiamo questi occhi molto infiammati ci deve essere anche un aiuto dal cortisonico. Poi man mano che facciano sedute di luce pulsata si riduce il cortisonico, si riducono lacrime artificiali, si riduce un po' tutta questa, nella maggior parte dei casi, tutta questa terapia. La novità in questo campo è uno studio in fase 3 del KP1-121 che altro non è che il Lothemax, però mediato da un sistema brevettato dalla cala farmaceutica. Sono partiti dal fatto che ogni principio attivo viene in parte catturato dalla barriera mucosa del fin lacrimale e portato via con l'ammiccamento. Quindi hanno creato questo sistema chiamato MPP, Drug Delivery Technology, che consiste nell'usare delle nanoparticelle selezionate della stessa grandezza che ricoprono il corticosteroide e ne migliorano notevolmente la capacità di penetrare la barriera mucosa del fin lacrimale, migliorando quindi la diffusione della distribuzione del cortisone promette di alleviare i sintomi molto più velocemente. Ora anche altre ditte per altri colliri cercheranno poi di usare questa tecnologia perché in effetti è rivoluzionaria. Come antibiotici, vediamo gli antibiotici topici, si possono utilizzare sia topici che orali per controllare la crescita batterica, quelli di scelta sono la bacitracina, i fluorochinolonici, gli amminoglicosidici e le tetracicline. Altri come ad esempio il cloranfenicolo sono invece sconsigliati, così come la tetracicline è sconsigliata nei bambini perché può depositarsi nelle ossa e nei denti rendendoli giallastri. Si consiglia un dosaggio più alto inizialmente e poi uno molto più basso come mantenimento per un certo periodo di tempo. È stato presentato uno studio in doppio cieco anche sull'utilità degli omega 3. La produzione media di lacrime e il volume lacrimale sono aumentati nel gruppo omega 3 come indicato sia dai testi schirme che dalla fluorofotometria. I sintomi dei pazienti sono risultati migliorati nella valutazione OSDI. La supplementazione dietetica con omega 3 in pazienti con occhio secco però non ha avuto effetti significativi né nella composizione lipidica di Meibu né nel tasso di evaporazione lacrimale. L'ipotesi sul meccanismo di azione è stata quella che abbia un effetto antinfiammatorio. Gli ultimi studi poi si sono concentrati sull'azione terapeutica che gli androgeni possono avere sul dry eye da Meibuomian Gland Disfunction. Visto che ci sono dei recettori ormonali sulle ghiandole stanno studiando la possibilità di fare dei colliri a base di ormoni e vedremo. In conclusione quello che possiamo affermare comunque è che il dry eye deve essere considerato una patologia trattabile. Personalizzarla per ogni paziente però con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione sia farmacologici che tecnologici la possiamo curare. Vi informo infine che a causa della pandemia la dodicesima edizione del Congresso internazionale di oculistica ed oftalmoplastica è stata spostata al prossimo anno. Si trarà sempre all'isola d'Elba dal 12 al 15 maggio 2021. I corsi saranno incentrati su come prevenire e risolvere le possibili complicanze sia oculistiche che oftalmoplastiche, sia chirurgiche che terapeutiche. Vi ringrazio.